Sono Simone Aliprandi e per l'editore dell'edizione ho pubblicato vari libri sul tema dei diritti digitali perché sono appunto la mia competenza professionale facendo io l'avvocato. Quest'anno però mi sono voluto cimentare in un'esperienza un pochettino diversa e lontana dalle mie corde originali. Un libro che si intitola Cronache dalla radura, riflessioni ed esperienze sulla complessità delle relazioni di coppia. Quindi vi invito a Book City 2018 quest'anno per discutere di questo argomento con altri autori della stessa casa editrice. Mi raccomando non mancate sarà una bella occasione di confronto.